Una continuazione che abbiamo deciso di prendere in considerazione in società da quest'estate con Mr. Cappellacci, adesso c'è Mr. De Feudis e quindi per dare una linea di continuità a ciò che era stato deciso in estate la società ha deciso di puntare su Mr. De Feudis. Chiaramente è stata una scelta dovuta, obbligata, perché comunque questa ribadisco è una società molto virtuosa, solida, che ha dei progetti ben chiari e ben precisi e ci tengo a precisare anche che è un sodalizio dove tutti coloro i quali fanno parte siamo veramente molto coesi e oso dire tipo una famiglia e quindi facciamo l'in bocca al lupo a Mr. De Feudis e benvenuto in questa società come capo allenatore. Sì, intanto faccio l'in bocca al lupo e un benvenuto al Mr. e come dici tu Daniela, io sono qui come sapete tutti da sei anni, da sempre, ho avuto vari ruoli, ho svolto vari incarichi e questa società è cresciuta molto, è cresciuta sia sotto il punto di vista societario, organizzativo e finanziario, ma è cresciuta anche sotto il punto di vista sportivo, perché noi in questi sei anni abbiamo vinto tre campionati, abbiamo riportato l'Aquila Calcio dalla prima categoria dove era fallita, dove era crollata, fino a disputare campionati di Serie D di vertice. Questa società in questi anni è arrivata o prima o seconda, ha vinto una Coppa Italia di eccellenza, ha fatto una finale di Coppa Italia di eccellenza, vado a memoria, ha fatto la finale nazionale dei play-off nazionali di eccellenza, insomma abbiamo vinto l'anno scorso i play-off, una cosa incredibile, che noi pur essendo arrivati secondi a due punti dalla C, aver vinto semifinale e finale dei play-off non abbiamo neanche una targa che lo commemori in sede, perché purtroppo la Serie D è un campionato capestre, però io credo che la tifoseria, che giustamente in qualche caso la tifoseria o l'ambiente, che in questo momento ha rumoreggiato, ha ragione a farlo perché è tutto migliorabile, però i capisaldi di questa società che sono la solidità finanziaria, io voglio ricordare a tutti che da sei anni all'Aquila si parla di calcio, si parla di attaccanti, si parla di moduli, si parla di giocatori e non si parla di crack finanziari, di bilanci truccati, di dirti soccer, di partite vendute, e io che sono un tifoso dell'Aquila Calcio da 40 anni, ne ho 50 quasi, diciamo da 30 anni abbondanti, ho sentito nelle gestioni passate molto più parlare di queste cose che degli attaccanti, dei terzini e dei difensori, si possono fare le scelte, si possono indovinare, si possono sbagliare, Michele secondo noi è la scelta migliore, perché noi facciamo le scelte nell'interesse sovrano della squadra e della società, se è stata fatta questa scelta si sono proposte, come sapete, svariate figure, non un allenatore, se ne saranno proposti 40, tutti validi, alcuni che avevano anche delle coperture finanziarie, se vogliamo proprio dirla tutta, e noi abbiamo fatto una scelta diversa, perché noi non ragioniamo per nomi, per copertine patinate, ragioniamo nell'interesse dell'Aquila 1927, riteniamo che questo allenatore è l'allenatore che fa il caso nostro, per le ragioni che ricordava Gabriele, chiaramente poi sarà il lavoro del Minister e il campo a stabilire se questa è stata la scelta giusta o è stata la scelta sbagliata, ma è sicuramente stata la scelta che è stata fatta nell'interesse superiore dell'Aquila Calcio, perché qua dentro tutti quanti svolgiamo una funzione, io adesso sono l'amministratore, in passato ho avuto altri ruoli, ma ho sempre lavorato nel fine e nell'interesse ultimo dell'Aquila 1927 come tutti i dirigenti che sono qui, dal Presidente Mario Russo che saluto, a Gabriele, io e tutti gli altri, quindi rinnovo il mio in bocca al lupo al Minister e ve lo lascio perché ho parlato anche troppo. Che dire, dopo tutte queste belle parole, io prima di tutto devo ringraziare la società, il Presidente, Marco e Giulio le posso dire, perché non c'è problema, per essere stato scelto ed avermi dato questa possibilità, essere stato scelto al cospetto di altri allenatori magari più titolati di me che hanno fatto altre categorie e meno. Io da primo l'Inter regionale non l'ho allenata mai, però non per questo non ne sono capace, quindi ringrazio loro, ringrazio tutti e spero di ricambiare la fiducia che mi è stata data, è totale, proprio totale fiducia. Se sono qua l'ambiente secondo me è ottimo, diciamo che quando ci sta un cambio di allenatore c'è il problema di conoscere, di vedere la squadra, io diciamo che c'è un vantaggio, quindi c'è ancora più responsabilità perché la squadra la conoscevo, gli altri 4-5 li conosco ma per vissuto perché sono giocatori importanti che hanno giocato in categorie diverse, quindi l'ho trovata bene, in questi due giorni hanno risposto a tutto quello che gli ho chiesto, quindi l'ho trovata bene. Che facciamo? Scopriamo già gli altarini, noi dobbiamo andare a giocare, quindi... Cioè è normale che, essendo stato per molti anni il secondo di Roberto, la filosofia è quella, però sinceramente ancora non ho deciso, però più o meno la filosofia di cercare il risultato attraverso il gioco, ma in questo momento è bene ricreare un po' di entusiasmo, di fiducia e quello te lo porta il risultato. Io se fossi venuto qua e in due giorni sarei stato capace di trasformare una squadra, sarei stato solo un presuntuoso, io ho cercato di lavorare su quello che pensavo, sicuramente metterò in campo una squadra che secondo me è quella che possa fare meglio dell'altra. Sì, sì, poi il testino ti mette di fronte, ma io sono consapevole perché sono stato bene a Ancona, mi ha dato la possibilità di lavorare anche in Lega Pro, quindi avrò piacere pure di rincontrare qualcuno, ma poi alla fine si sa, quando poi vai in campo ti dimentichi tutto e noi abbiamo bisogno di fare risultato, quindi poi a fine partita quando l'arbitro fischierà amici più di prima. Io ho trovato, sinceramente entrando nello spazio, ho trovato dei ragazzi disponibili, anzi con alcuni ho pure parlato, quindi io poi caratterialmente non sono uno che arriva a gamba tesa, non fa parte del mio carattere, ho cercato disposizione da loro, ho dato la mia massima disponibilità, quello che potevo fare, poi è normale che strada facendo in due giorni, poi strada facendo sicuramente ci conosceremo meglio, e poi è normale, io ho detto loro che se io riuscissi a farmi voler bene da quelli che non giocano avrei raggiunto già quasi il massimo obiettivo, perché di solito l'allenatore va d'accordo più o meno con quelli che fa giocare, ma l'allenatore è bravo e è quello che va d'accordo con quelli che non giocano, quindi io spero di raggiungere questo obiettivo. No, ma io penso che ad arrivare a domenica, poi la medicina, se uno avesse la medicina sarei un santone, c'è la medicina giusta per arrivare in una squadra e dire facciamo così che si vincano tutte le partite, allora lo farebbero tutti, però io penso che quando subentri la cosa più facile da fare è non inventarti niente, io parlo di questa partita qua, io ho tre giorni a disposizione, ma non è un alibi, io cercherò di fare le cose più semplici in questi tre giorni, ma soprattutto di liberare i ragazzi, io ho detto la prima cosa l'altro ieri, ho detto la prima cosa voglio che voi vi divertiate a fare la mente, poi dopo in tre giorni puoi entrare nei ragazzi solo a livello di testa, io posso parlare di quello che avevamo fatto noi e noi abbiamo fatto un buon lavoro, poi dopo sinceramente io l'Aquila, ma non perché la conoscevo, non l'ho visto, ho visto solo tramite gli highlights, quindi se tu mi hai visto su qualche altro campo, se l'ho stata a termo, se l'ho stata a notaresco, l'Aquila forse la conoscevo e magari l'ho vista meno, però io avendo la fortuna, come ho detto prima, di conoscerla, però io sinceramente ieri ho fatto un lavoro intenso e i ragazzi hanno risposto tutto, quindi io non vedo, è normale che quando i risultati non vengono, quando hai una società giustamente che ti dà tutto, non ti fa magari niente ambiziosa, parti con i fari puntati, è normale che quando magari comincia a venire meno un risultato, magari qualcuno, ma secondo me non è un fatto fisico, è più un fatto mentale, magari sentire un po' la responsabilità del risultato, perché magari non stiamo ottenendo risultati che magari tutti si prefiggevano, ma io sinceramente tutti questi problemi non li vedo. Ma non lo so, io non sono un preparatore, ho visto l'Aquila tramite gli Ailazzi, quello che ho visto io in questi due giorni, i ragazzi si sono allenati bene, hanno risposto bene, quindi io un problema non lo vedo, per me in questo momento è arrivare alla partita di domenica e spero di arrivare nel migliore dei modi a livello di testa, perché a livello di tattica o di tecnica, non ho la presunzione in due giorni di migliorare la squadra, quindi se io dovesse arrivare a livello di testa libero, sciampo, lasciatemi passare il termine, penso che ho ottenuto già qualcosa. Venevo a dire una cosa, rispondo a Tettamanti, che comunque la società da quest'estate ad oggi non ha mai messo o creato pressioni né allo staff precedente né ai giocatori, quindi ha dato sempre piena fiducia agli allenatori affinché potessero esprimere il loro meglio sul campo, questo è da sottolineare che la società ha fatto sempre il suo senza mai creare nessun tipo di problema o pressioni esterne.